Siamo venuti in visita all'Associazione Firenze-Artenburg-Alleghere a Firenze dove nella sala espositiva Cimabue Miranda May, direttore artistico della Galleria e presidente dell'Associazione insieme alla pittrice fiorentina Maria Grazia Bambi sta allestendo la mostra personale dal titolo La vita in geometria che si inaugurerà sabato 12 maggio alle 16. Quindi fin da ora noi invitiamo i nostri telespettatori a partecipare al Vernissage ricordo sabato 12 maggio alle 16. Miranda, Maria Grazia Bambi è una delle artiste ormai consolidate della Galleria, è sempre presente nelle collettive. Noi l'abbiamo seguita anche in alcune mostre personali delle quali parleremo poi con Maria Grazia. Quindi vorrei che tu parlassi di lei che è una persona oltre che brava come artista, squisita, che in un'associazione fa piacere avere come socia. Perché è una persona che dà sempre il suo contributo volontaristico, che non crea mai problemi. No, no, è una persona valida e io ne sono molto fiera perché ci si capisce al volo e poi c'è la sua bravura perché diciamo questo suo metodo non è molto frequente da vedere. È molto originale, è originale, esatto, e va capito e va visto veramente con calma e passione. La Maria Grazia è un'artista molto timida, non sembra mai timida e non dice mai troppo di se stessa. Invece merita alcune lodi perché è valutata anche fuori. È molto riservata e questo magari se in televisione si percepisce meno ma chi la conosce in persona sa benissimo, conosce benissimo la sua riservatezza. Allora io direi di partire Maria Grazia dal primo nostro incontro con l'arte che avvenne nel Palazzo dei Priori, una location prestigiosa a Volterra in occasione di una mostra nella quale c'erano forse anche questi due quadri alle nostre spalle sicuramente. Per molti nostri telespettatori quella mostra fu una folgorazione perché era la prima volta che tu esponevi in maniera compiuta, tra l'altro era una mostra anche che aveva un particolare significato personale per te. Non so se lo vuoi ricordare il motivo per cui la facesti. È stato mio marito che aveva insistito perché io la facessi. E quindi era una promessa fatta a lui che tu hai mantenuto. Una promessa fatta, no proprio un impegno perché mi aveva messo proprio all'impegno di far parlare. Ecco qui e poi dopo ho seguito alla Villa San Lorenzo un'altra personale e poi dopo ho partecipato a un concorso a Piscia al quale ho preso il primo premio, il terzo premio, ho sbagliato. Ecco e basta. Ora faccio delle collettive con Miranda che è una persona eccezionale. Io so che tu sei resti ad affrontare la telecamera e il microfono però ho un minimo di informazione per i nostri telespettatori per stimolarli soprattutto a venire a partecipare non solo al vernissaggio ma anche a vedere la mostra. Chi non potrà venire sabato 12 maggio alle 16 lo potrà fare nei giorni successivi, anzi ricordiamo subito quando chiuderà la mostra. Il 22 maggio. Quindi ci sono 10 giorni di tempo per venire a visitare. Allora come nascono queste geometrie che sono un po' il tuo segno caratteristico? Nascono così senza nessuna preparazione come ho detto nelle altre mostre non c'è nessuna preparazione. Con grande spontaneità. Tutto molto spontaneo e vengono così. Bene, ho capito che tu vuoi lasciare spazio, lasciare parlare le immagini e quindi noi questo faremo invitando i nostri telespettatori appunto a venire. Il giudizio di chi viene a vederli come è stato per Volterra che mi hanno riempito in 8 giorni praticamente 30 pagine di scritti. Non solo firme ma scritti e sarà il giudizio di loro che... Io ricordo fu una mostra particolarmente apprezzata dai turisti che sono tantissimi i tedeschi, soprattutto i tedeschi, tutti. Però la pittura, le geometrie di Maria Grazia Bambi hanno un respiro internazionale, una forma di espressione artistica, un linguaggio internazionale. Da Helsinki, dalla Undra, dalla Germania, ripeto, dal Belgio, dalla Spagna. Io mi ricordo in particolare i tedeschi erano molto affascinati da questa... Belgio anche, sì veramente, molto... Allora, la vita in geometria di Maria Grazia Bambi dal 12 al 22 maggio, 10 giorni di esposizione con apertura dalle 16 alle 19, ingresso libero all'Associazione Firenze Arte, in Borga Allegri a Firenze, a 100 metri dalla Basilica di Santa Croce, all'interno della Galleria Cimabue, i quadri della pittrice fiorentina Maria Grazia Bambi.